questa è una mappa del tempo che mostra le varie ere geologiche del pianeta viene definita adeano l'era in cui la terra era ancora fusa con una crosta non ancora formata del tutto poi l'archeano l'era antica in cui si sviluppano le prime forme di vita quelle principalmente prokariote e poter ozoico quelle eucariote con la fotosintesi che ha cominciato a riempire il pianeta di ossigeno intorno ai 540 milioni fa comincia il precambriano che è quell'epoca in cui la vita multicellulare complessa è letteralmente esplosa e ha riempito il pianeta le ultime tre epoche sono paleozoico mesozoico e genozoico sono tutte quelle epoche in cui la vita multicellulare complessa ha colonizzato il pianeta con creature sempre più evolute in particolare il mesozoico è l'epoca in cui sono vissuti i dinosauri poi c'è stato il famoso meteorite che ha messo fine alla loro epoca e il cielo zoico è l'epoca in cui i mammiferi hanno preso il controllo del pianeta alla fine del cielo zoico siamo arrivati noi ho creato una piccola storyline della storia della terra la vediamo qui al volo la terra quindi si è formata nella deano e radiano è tutta quell'epoca in cui la crosta del pianeta era ancora incandescente e informazione in questa epoca pare che ci siano stati i primi oceani perché l'attività vulcanica emetteva gas tra cui molto vapore acqueo e questo condensava in atmosfera ricadendo sotto forma di pioggia seconda con i scienziati già in questa epoca era possibile la presenza di vita ma comunque è stata completamente cancellata dall'intenso bombardamento tardivo a causa di l'evento non possiamo sapere se c'era vita prima di esso perché ha devastato e riconfigurato tutto il pianeta quindi non abbiamo rocce risalenti a quell'epoca poi comincia l'archeano in cui effettivamente sappiamo esserci la vita quindi da quest'epoca c'è la certezza che la vita sia già cominciata siamo a 3.800 milioni di anni fa ovvero 3,8 miliardi di anni fa compare la molecola di rna quindi la vita più semplice che conosciamo qui vediamo a tempo tu resta intorno ai 41 gradi alcuni milioni di anni dopo compare la fotosintesi la vita impara a sfruttare la luce del sole quindi mentre prima la vita sfruttava la geodermia ovvero il calore e l'energia furita dai vulcani per il loro metabolismo adesso la vita scopre come utilizzare la luce solare per poter produrre i suoi zuccheri e quindi si libera dei vulcani e comincia a diffondersi ovunque sul pianeta ci sia la luce solare quindi dappertutto in particolare con la fotosintesi la vita comincia a riempire il pianeta di ossigeno perché se ricordate la fotosintesi produce ossigeno come gas di scarto che questi organismi rigettano nell'ambiente da prima cominciano a riempire gli oceani poi l'atmosfera fino a formare nella stratosfera lo strato di ozono tutto questo ossigeno all'epoca era tossico per gli esseri venti e quindi c'è stata una grande estensione ma non solo la fotosintesi assorbiva dall'atmosfera l'accio 2 che è un importante gas serra quindi questo evento biologico ha letteralmente svuotato l'atmosfera da l'anid carbonica e il pianeta è crollato in un era glaciale la prima grande era glaciale di cui abbiamo informazioni vedremo che nel tempo sono stati tantissime le aree glaciale causate da un'intensa attività biologica della fotosintesi perché non si era ancora creato un equilibrio vero e proprio tra arie carbonica e ossigeno questo evento crea ovviamente un'estinzione massa ma stiamo sempre parlando di galghe e batteri e mette fine all'archeano comincia così il proterozoico dove il pianeta diventa il mondo dei ciano batteri i ciano batteri sono i batteri che hanno sviluppato la fotosintesi come loro metabolismo principale il pianeta comincia a diventare azzurro perché si riempie di ossigeno in particolare l'ossigeno arriva ad alta quota i raggi o tavoletti lo scompongono e lo ricompongono in ozono e questo gas ad alta quota tinge il pianeta di azzurro gli oceani diventano azzurri perché di fatto riflettono il blu dell'atmosfera quindi il pianeta finalmente comincia ad acquisire il suo iconico colore azzurro poi andiamo avanti con il proterozoico e intorno a 2400 milioni di anni fa abbiamo la grande ossigenazione i livelli ossigeno del pianeta raggiungono a livelli alti vi ho detto che l'ossigeno è un gas tossico per le prime forme di vita della terra perché queste sono nate ed evolute in un ambiente anaerobico senza ossigeno e quindi questa grande produzione d'ossigeno causata dalla fotosintesi di fatto genera la prima grande estinzione di massa mai registrata in cui gran parte delle forme di vita sempre batteriche spariscono o comunque si rifugiano nella crosta e in fondo all'oceano lì dove l'ossigeno non riesce a raggiungerle passano altri 50 milioni di anni e tutta questa fotosintesi assorbendo il gas serra dall'atmosfera la carbonica genera una grande era glaciale vedremo che molto spesso nella terra l'intero pianeta sembra essersi congelato fino all'equatore questi eventi chiamati eventi terra palla di neve spiegano che in alcuni momenti geologici l'assorbimento della carbonica da parte dei batteri hanno diminuito fortemente l'effetto serra naturale della terra che rende il pianeta abitabile quindi tante volte nel passato eventi glaciali globali hanno quasi estinto la vita sul pianeta per fortuna il ghiaccio è meno denso dell'acqua quindi quando gli oceani congelavano sotto rimanevano liquidi perché si forma uno strato galleggiante che proteggeva gli oceani dal freddo esterno e la vita ha potuto continuare a sopravvivere anche sotto il ghiaccio l'attività vulcanica rimetteva in atmosfera l'accio 2 che i batteri avevano assorbito e col tempo il pianeta torna ad avere un suo equilibrio climatico idoneo con la vita abbiamo in questo evento intorno ai due migliaia di anni fa la comparsa di eucarioti e mitocondri ovvero quelle cellule con il nucleo più grandi e più organizzate con organoli e in particolare con il mitocondrio l'organolo con cui si realizza la respirazione cellulare dove o zucchero ossigeno vengono convertiti in atp tutte le forme di vita che conosciamo sulla terra utilizzano questo metabolismo provando che siamo tutti quanti imparentati perché tutti quanti noi da un girasole a una balena un essere umano un elefante deriviamo dalla stessa cellula primordiale perché ne condividiamo il metabolismo basale fino adesso la vita è stata sempre solo rappresentata da ciano batteri da batteri quindi solamente da organismi unicellulari intorno a un miliardo di anni fa compaiono i primi organismi multicellulari funghi e alghe multicellulari e quindi il pianeta comincia a presentare qualcosa di più interessante però stiamo sempre parlando di organismi molto semplici abbiamo il rodinia che è il primo super continente ma registrato ovvero la tetonica e placche che è stata la caratteristica principale di questo pianeta da sempre ha dato origine al primo super continente riconosciuto il rodinia in cui tutti i continenti erano uniti in uno solo poi abbiamo ancora un nuovo evento di glaciazione globale sempre causato all'eccessivo assorbimento di co2 dell'atmosfera il famoso evento conosciuto come snowball earth terra parla di neve causato da questa intensa riduzione 12 dalla fotosintesi e quindi ovviamente un'altra estinzione di massa col tempo i vulcani hanno reimmesso nuova anidicarbonica in atmosfera e il clima ha ritrovato il suo equilibrio abitabile intorno ai 600 milioni anni fa sulla terra compaiono i primi animali con una struttura dove troviamo una testa e una coda quindi si formano i primi vertebrati in realtà dei primi organismi con qualcosa di simile a una colonna vertebrale erano i cordati ovvero quelli che avevano una struttura simmetrica bilaterale quindi non erano più radiali con un corpo che si sviluppava da un centro ma una simmetria bilaterale su uno sviluppo lineare del sistema nervoso quindi qualcosa di molto simile a una vera e propria colonna vertebrale i cordati hanno cominciato a popolare il pianeta e la terra comincia a sperimentare nuove forme di vita molte di queste non ce l'hanno fatta a colonizzare il pianeta però troviamo oggi tantissimi fossili di questo evento in cui l'evoluzione cominciava a sperimentare nuove forme di vita sempre più complesse il proterozoico finisce con una nuova estinzione di massa non sappiamo perché c'è stata sappiamo che alla fine di questa epoca una grande varietà di formi da scompare però non sappiamo perché è successo finito il proterozoico comincia il farinozoico dove abbiamo la prima vera esplosione di vita l'esplosione del cambriano compaiono predatori artropodi e esoscheletro quindi strutture sempre più complesse quindi uno scheletro esterno degli animali artropodi che sono gli animali dove il corpo è diviso in sezione insette di scorpioni i granchi vedremo piano piano come evolvono e poi ovviamente cominciano il primo rapporto di predazione quindi si evolvono i predatori il cambriano finisce con una nuova estensione di massa anche qui causa sconosciuta vedremo che le estensioni massa sono una costante nella storia di vita sulla terra e ogni volta che c'è un estensione di massa il pianeta cambia completamente e la vita riesplode sempre più florida e sempre con una varietà di forme maggiori poi stiamo a 470 milioni anni fa la terra ritrova il suo equilibrio e la vita riprende a popolare il pianeta abbiamo le prime barriere coralline le prime piante e primi altropodi sulla terraferma gli insetti sono i primi animali a penetrare nei continenti lontano dall'acqua quindi i primi animali a colonizzare le terre ferme ma sicuramente c'erano anche organismi anfibi marini che popolavano anche le coste poi abbiamo un nuovo evento di graciazione globale sempre qui non riusciamo ancora ad avere un equilibrio vero e proprio col clima e quindi una nuova estensione di massa comincia così l'epoca del siluriano 430 milioni anni fa vedete che ogni volta che c'è un'era graciale e un'estensione di massa dobbiamo aspettare che i vulcani rimettano in atmosfera la co2 che i batteri e la fotosintesi hanno tolto in modo così massiccio da questo possiamo capire quanto è stata importante l'attività vulcanica per la vita sulla terra e come questa ancora oggi contribuisce a mantenere un equilibrio di gas serra nell'atmosfera stessa questa attività vulcanica è sempre stata una costante sulla terra vedremo che non è stato così su marte non appena marte ha perso una terra vulcanica ha perso questo meccanismo che rimetteva in atmosfera la co2 che veniva assorbita da vari fattori poi ancora come dopo ogni estensione massa la vita si riprende in questa epoca compare il primo pesce con la mascella i primi esemplari con una bocca mobile poi gli rip teri di che sono dei grossi animali arthropodi che vivono sulle coste o vicino alle coste i crinoidi che sono animali che vivono fissi sulle rocce nell'acqua e vertebrati i primi organismi vertebrati veri e propri quindi i cordati comparsi prima si evolvono in qualcosa di più complesso poi andiamo avanti con il fare no zoico e ci troviamo nel devoniano dove i pesci diventano gli animali dominanti degli oceani compaiono anche i placodermi i tetrapodi e gli insetti gli insetti sono proprio gli animali che hanno cominciato a colonizzare le terre messe fin lontano dalle coste alla fine di questa epoca abbiamo una nuova estinzione in massa stavolta causato da l'effetto opposto rispetto agli altri abbiamo un elevato effetto serra una grande quantità di co2 si accumula atmosfera innescando un effetto serra però come vedete la temperatura media di questa epoca sembra essere più bassa di quella precedente spesso l'aumento della show 2 non solo aumenta la temperatura ma va a modificare alcuni equilibri chimici della biosfera come ad esempio l'acidificazione degli oceani quindi un aumento elevato di co2 può manifestarsi anche con un'estensione di massa per acidificazione degli oceani e infatti in questa epoca troviamo un'altra estinzione di massa 300 milioni di anni fa la terra trova ancora il suo equilibrio chimico atmosferico stavolta ci troviamo nel carbonifero il carbonifero viene ricordato come l'epoca in cui tutto il pianeta era ricoperto da foreste c'erano vaste foreste che hanno riempito l'atmosfera di ossigeno in questa epoca si arriva ad avere un livello di ossigeno pari al 40 per cento dell'atmosfera praticamente il doppio dell'attuale e quasi tutto il carbone che noi estraiamo oggi deriva dalla conservazione delle foreste vissute in questa epoca infatti molti giacimenti carboniferi oggi sparsi per il mondo si trovano in regioni che a quel tempo erano localizzate lungo l'equatore terrestre in questa epoca compaiono gli affibi e le ammoniti che poi sono sopravvissute per tutta l'epoca dei dinosauri fino a quando l'evento kt cioè in meteorite che ha messo fine all'epoca dinosauri non le ha fatto estinguere poi 260 milioni di anni fa si forma il pangea l'ultimo supercontinente e questa è l'epoca in cui la terra è dominata dai grandi sauri e alla fine del premiano la terra vive una delle sue più grandi estinzioni di massa questo evento è stato causato da uno vero e proprio squilibrio chimico dell'atmosfera c'è stato un enorme aumento di co2 fino addirittura a mille parti per milioni atmosfera e un collasso dell'ossigeno quindi vedete quanto è delicato l'equilibrio chimico dell'atmosfera se la biosfera non riesce più a mantenere stabile questo equilibrio abbiamo dei giganteschi eventi ad estinzioni di massa vi ricordo sempre che l'aumento 12 non ha come conseguenza solamente l'aumento della temperatura ma anche il collasso dei livelli di ossigeno negli oceani che di fatto diventano delle gigantesche zone morte dove la vita marina non può esistere sopravvivono solamente organismi anaerobici poi finito il premiano comincia il mesozoico e il mesozoico è proprio l'epoca dei dinosauri tutte le tre epoche del mesozoico che sono triassico giurassico e cretaceo sono epoche caratterizzate da un mondo popolato da dinosauri com'è questo pianeta la pangea è ben sviluppata abbiamo un pianeta molto caldo questo supercontinente permette l'esistenza di vasti deserti perché ci sono ampie zone continentali ben lontane dalle coste e ci troviamo in un mondo molto più caldo dell'attuale non ci sono infatti le calotte di ghiaccio comincia l'era dei rettili e compaiono i primissimi mammiferi anche se per tutta l'epoca dei dinosauri i mammiferi saranno sempre in fondo alla catena alimentare e quindi vediamo proprio il pangea che domina tutto il globo terrestre il mesozoico prosegue con nuove estensioni di massa che delimitano le tre epoche principali quindi abbiamo nuovi eventi serra che creano estensioni di massa per poi dare il tempo al pianeta di riprendersi 145 milioni di anni fa il pangea si frantuma in due grandi massi continentali il laurasia nord il god one a sud e abbiamo la diversificazione dei dinosauri che comunque continuano a diffondersi e popolarsi per tutto quanto il pianeta nell'ultima epoca dei dinosauri quella del cretaceo abbiamo l'apertura dell'oceano atlantico e quindi sud america ed africa finalmente si separano e la comparsa di dinosauri giganti perché in quest'epoca lo sviluppo del gruppo dei dinosauri ha portato ad animali molto grandi anche in questa epoca abbiamo elevati livelli di ossigeno proprio grazie alle grandi foreste il pianeta era più caldo dell'attuale quindi anche qui per tutto il mesozoico pare non ci siano stati grandi calotte di ghiaccio che hanno interessato il paesaggio terrestre e le foreste fiorivano su vaste aree continentali è proprio tutta questa vegetazione che ha permesso l'evoluzione di grandi sauri perché tutta questa vegetazione produceva cibo per questi enormi erbivori il cretaceo e quindi anche tutto il mesozoico finisce 66 milioni di anni fa con il famoso meteorite che ha colpito il pianeta nel golfo del messico nella penisola del yucatan ho dedicato un'intera lezione a quest'evento la numero 11 di questo corso che ha causato l'ultima grande estinzione di massa quella dei dinosauri conosciuta come evento kt che ha fatto fuori il 75 per cento di tutte le forme di vita sulla terra dinosauri compresi dopo questo evento comincia il cenozoico l'ultima grande era della terra dove i mammiferi occupano tutte le nicchie ecologiche che una volta erano occupate da dinosauri quindi la terra diventa il pianeta dei mammiferi i primissimi antenati della specie umana compaiono circa 5 milioni di anni fa in africa durante tutto il cenozoico il clima è stato più caldo dell'attuale da questo periodo cominciano la sequenza di una serie di ere glaciali che condizioneranno poi l'evoluzione stessa della vita l'evoluzione della nostra stessa specie è un prodotto di questa successione costante di ere glaciali infatti sono diversi milioni di anni che abbiamo un'era glaciali di almeno 100 mila anni ogni fase interglaciali 10 mila anni ovviamente una media ogni era a lunghezze diverse però c'è questa alternazione costante e continua dovuto al fatto che la nuova configurazione geografica dei continenti ha condizionato fortemente la circolazione oceanica che rende quindi più instabile il clima con le variazioni astronomiche della sua orbita abbiamo già spiegato nelle strade precedenti come avviene un'era glaciale durante queste regla ciali la nostra specie si è diffusa nel pianeta e nello stesso tempo è stata facilitata perché le regla ciali hanno messo in crisi la macro fauna dei grandi continenti che spesso rappresentavano anche i nostri predatori e quindi il pianeta è diventato un po più favorevole per la diffusione esseri umani ogni volta che un era glaciale abbassava il livello del mare permetteva ai nostri antenati di superare bracci di mare o addirittura vaste le oceaniche per potersi diffondere nei vari continenti e poi arriviamo fino al presente dove siamo arrivati a una popolazione di 8 miliardi di esseri umani e le attività umane stanno modificando completamente la nostra attività infatti questa epoca viene definita gli scienziati antropocene ovvero praticamente ci siamo creati la nostra era geologica perché le attività umane stanno condizionato il tasso di estensioni il tasso di erosione praticamente attiva umane muovono più sedimenti di tutti i fiumi della terra e stiamo modificando i processi climatici le stesse attività umane sono diventate una forza della natura che interagiscono con il sistema terrestre e condizionano in modo pervasivo il clima tanto da avere sconvolto radicalmente un equilibrio climatico che durava da almeno duemila anni e che l'incredibile stabilità degli ultimi diecimila anni ha permesso lo sviluppo dell'agricoltura e quindi anche della nostra stessa civiltà e questa è la situazione della terra oggi abbiamo un'elevata crescita dei livelli di anidride carbonica i cambiamenti climatici stanno distruggendo le foreste e stanno riducendo la copertura glaciale dei poli e soprattutto i rifiuti delle nostre industrie stanno inquinando gli ecosistemi e immettendo nella catena alimentare sostanze tossiche cancerogene che hanno anche un importante ruolo mutagene non indifferente per l'evoluzione delle specie quindi questa è la condizione in cui ci troviamo oggi e la nostra attività sta dando origine a un nuovo evento di estinzione di massa infatti da alcuni secoli a questa parte e soprattutto negli ultimi decenni è aumentato notevolmente il tasso di estinzione delle specie siamo arrivati a un tasso di estensione che mille volte superiore a quello naturale quindi ci troviamo proprio in un evento di estensione di massa causato dallo sviluppo della nostra civiltà questo è solo un estratto della lezione completa sul pianeta terra nella lezione completa accennerò degli esso pianeti scoperti simili al nostro vedremo la sua struttura interna in particolare con la dinamica interna tra la crosta e il mantello e ovviamente anche la sua composizione chimica poi vedremo le diverse tipologie di eruzioni vulcaniche che caratterizzano il nostro pianeta e infine anche gli attuali cambiamenti climatici che l'umanità ha innescato negli ultimi decenni potete trovare questo e tanto altro ancora nella lezione completa sulla terra nel mio corso di astronomia sia questa lezione che tutto il corso di astronomia lo potete trovare nel mio canale youtube e sulle pagine instagram e facebook prof antonio loiacono grazie grazie